Nel video di oggi parliamo di un argomento leggermente diverso, un po' più particolare ecco. Sto parlando infatti del reddito di libertà, che è una misura a favore delle donne vittime di violenza e prevede un contributo economico mensile pagato dall'Inps a tutte le donne che sono ospiti di centri di violenza. Questo aiuto serve per favorire l'uscita e un nuovo inizio. Servo infatti ad aiutare con le spese di affitto, spese necessarie per la vita quotidiana e per la scuola dei figli. Per ricevere questo contributo è molto semplice, basta semplicemente rivolgersi in comune. Il reddito di libertà è un sostegno economico, come vi ho già detto, per tutte le donne sole o con figli minori e l'importo è di 400 euro mensili per 12 mensilità. Possono ricevere questo contributo tutte queste persone, donne vittime di violenza e accolte nei centri, residenti in Italia, con cittadinanza italiana o comunitaria oppure extracomunitaria con permesso di soggiorno. Per altri aggiornamenti sempre sul mio canale di YouTube.